a quanto è già arrivato? no qui tu sei qui c'è la belfa e qui tu sei ma mi pare strano guardi ho un prosecco e basta mi fa essere io di più non ce la faccio qui tu sei alto a me non mi piace soffiarci no via non mi gira soffi lei deve soffiare deve soffiare deve soffia forte e mi giri il capo ma qui tu c'è l'arta e che gli ha segnato lo vuoi dire ma è un gira è un di rosa via a me questo grudo mi fa perdere tempo c'ho da fare c'ho da andare alle poste il tamari c'ho da andare a fare la fila cane maledetto hai il telefono sui tettuccio i cene va eccoci a me gli ha voglia di ragionare il tamari mi pare a me allora gli prendo un prosecco ragazzi e lavoro ora si può neanche fare colazione di prosecco invece di fermare gli spinelli di droga la gente gli fuma che fuma le siringhe un fermario per dire e poi le gente vanno a fare la fila alle poste perché gli avevo un prosecco e un bicchetto di vino tanto per fare merenda ha inteso fascisti voi siete dei fascisti ma è stata l'altra assassina di serpente ma è ma se lo figli sono stronchi di culoso dice dice ti ha fatto la bevuta a me dire andate a lavorare invece gli stai a ragionare per pigliare le murte per pigliare le murte va e vieni qui per misurare le tazze al cuore e mi chiedo per dire ma lo sai io sto tenendo lo sfondo questa che si fa con cento cento ti ci fai per dire ora tu lo vedi andi di torno ne passo dopo tu mi rifermi tu vedi a quanto te lo butto questa macchinetta venita io ti vedo per il tennis alla goccia mi fa una sega hai visto vai a pigliare le murte vai non mi parte ma te mi ha infestato maledetta la tua figlia non mi parte la sei ancora fatta e la sei ancora fatta vai ho questo figli dentro delle sguate guarda che pettinatura liscia chi c'era un cammero l'ha leccato grazie